www.feyyaz.tv 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 è proprio un rampino stretto stretto la gomma dietro un pochino scivola attenzione qua a buttare dentro la spalla e chiuderla tardi e poi ad allungare sul rettilineo mi porto tutto sulla destra arrivo qua in fondo staccato cattivissimo con le moto GP più cattiva ovviamente di quella che io faccio con questa panigale V4S da 222 cavalli attenzione siamo quasi al vecchio rettilineo sono entrato un po' presto qui bisogna prepararla bene Guido con grande velocità dagli esterni si possono portare anche dei sorpassi e andiamo nel lungo furgone che porta al vecchio traguardo porta all'interno moto che muove e via fino alla quinta tutto sul cordolo per la staccata difficilissima questa è la Cops come la Cops come la Cops no non il supermercato la Cops e poi arrivano Magos Beckett e Cioppel dove bisogna essere preparati nei muscoli delle gambe per fare squat continui in cambio di direzione vieni Guido prepara bene questo serpettone devi essere un ballerino qua dentro questa tardala cerca di andare sulla sinistra via cambio di direzione devi essere un fulmine rimani interno e prepara qua con la marcia dentro il cambio di direzione che porta nel lungo rettilineo ci sono eccomi tu conch'io nell'Hungor Straight esco di grande cattiveria succhio tutta la velocità a disposizione e arrivo qui a questa staccata della curva Stone butto dentro la spalla elbow down devo andare a chiudere la tardola anche questa tardi tardi poi pick up veloce la raddrizza e vado verso la staccata del punto più lento di tutta questa pista questo rampino qua dentro in mezzo cambio di direzione lasciala correre larga 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 cercala per Forretto per Forretto l'alesterno per Forretto vittoria incredibile per Forretto mannaggia 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 in campo per vincere è lo spettacolo della serie A team Pettagna Duben con avvantaggio per l'Udinese tre partite ogni giornata da vivere insieme su Sky ancora meglio su Sky Sport 4K Adli il primo gol con la maglia del Milan questa settimana non perdere sabato alle 20.45 Udinese Milan domenica alle 12.30 Frosinone Cagliari Sky Sport la tua casa dello sport se di notte non respiri bene di giorno non sei riposato e anche le cose semplici si complicano Rinazzina apre le vie nasali rapidamente a lungo anche in caso di sinusite così puoi respirare meglio e dormire meglio Rinazzina cercami sono qui per essere protetta riesci a vedermi nelle luci dello spettacolo e nello scintillio delle onde MSC Crociere in viaggio verso la bellezza vedo che il dolore alla schiena va meglio si grazie a Flector Unidia gerotto medicato aderente e flessibile attivo fino a 24 ore contro mal di schiena dolori articolari e muscolari Flector Unidia in missione contro il dolore dalla ricerca IBSA se si vogliono cambiare le cose bisogna fare tante storie fino al 31 gennaio ai 300 giga minuti illimitati a soli 9,90 euro al mese con attivazione gratuita passa online o nei punti vendita COP COP Voce libera la tua voce la colazione è importante per chi è giovane e per chi è giovane dentro per chiunque ed ovunque nei momenti felici e in quelli difficili la colazione è per tutti ecco perché quest'anno doneremo 20 milioni di colazioni in tutta Europa in Italia continueremo a supportare i Breakfast Club insieme a Croce Russa Italiana Kellogg's Better Days il buongiorno si vede dalla colazione tornata dal tour tutti da me come ha fatto la rete ci regge tutti? regge, regge Sky Wi-Fi al massimo sono io che mi reggo è più bello tornare a casa con Sky Wi-Fi la rete fissa più stabile d'Italia secondo Ucla chiamaci all'141 vieni su sky.it o nei negozi Sky